scappo sei brutto sei grosso sei ciccione sei ubeso scappo eccolo levati dal cazzo dai vieni qua ovviamente lui deve venire da me dai abbraccia che schifo via porca a me hai abbracciato tu via 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 che se vi becca questo qua v'ammazza un più avanti tesoro cristo di un santo così non si può giocare abbracciami aspettatemi dove sei aiuto vai vai lanciolo vai 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 le mani lì vai lì vai lì e bel ciccino carica è morto ce l'ho fatta no 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 perché devi usare il coltello non sono mio nipote una chiave deficiente mi è andata di grandissimo enorme ma proprio è ancora il terzo capitolo pezzo di cacchina ma si è stato molto facile beh figa contando che sto giocando come una cacca morta ma devo dire di si per un po' mi scivola tutto porco giuda si sta spostando tutto il video scusa ma dove sto andando mi scivola tutto vai spero che le apparecchiature ne funzionino si ecco pezzo di nave di minchia abbastanza direi che dopo mangiato faccio il quarto episodio perché ho le mani già che mi fanno male check pins chi è la raffa cosa ha detto cosa dice fai la p a quanto pare siamo tutti in ritardo di che diavolo parli creatori ignoranti che ancora non c'è ehi voi due guardate il nostro amico maschera ma se le mie parole senti insieme che frutti infami al traditore chi rodo ballarmi e lacrimare vedrai insieme io non so che giusto né per che modo avvenuto se è muoci il mondo è nelle nostre mani questo è il virus che è di se abbiamo i messi per inventare un guido delle riserve idriche della terra trasforma i piccoli in squali cittaggi anche un bambino capirebbe cosa sta per succedere noi siamo la Veltro portatore di vendita dagli abissi dell'inferno così è questo il nostro uomo sapevo che era della Veltro lasciate ogni speranza o voi che entrate lasciate ogni speranza è un verso di Dante cazzo andate una squadra al balcone in Mocchi cerchi un collegamento con la nave o Brian si ricevuto manderò Quint e Kate cosa? voi due preparatevi ad andare no io odio la neve è lei che odia te scoprite tutto il possibile sulla Veltro non vedo niente pensavo che il Mediterraneo fosse come un grande lago brava coglione è studiato molto a scuola questo non risolve il nostro problema ehi ma mi stai ascoltando ti troveremo ti troveremo Jill sa in totale in totale ho preso asa va bene dai allora ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti